Ciao amici! Sto mangiando! Allora Antalya, adesso stiamo per salire sulla funivia dell'Etna. Tu non ci sei mai stata e in realtà neanch'io. Vediamo cosa ci aspetta. Eccola in arrivo! Noi saliamo su questa, va bene Antalya? Dove? Questa qui, questa qui. Dai andiamo! Eccoci finalmente a bordo, prendiamo posto. Dai sali Antalya! È bello qui! E adesso guarda vedremo la neve, la montagna e il vulcano, il monte Etna. Sì ma io voglio toccare la neve! La neve poi arriviamo di sopra, scendiamo e tocchiamo la neve. Solo che è poca. Eh sì! Va bene? Va bene, non ci fai niente dai! Sì ma io ti lancio una pallina grossissima! No, sono bianca! Oh! Hai ragione, allora piccolissima! Ma che cosa fai? Eh ho sbagliato, scusa! Partiti! Guarda si vede il mare! Sì! Che bello e ancora siamo appena partiti! Chi sa lì sopra? Guarda! Natalia, guarda dietro di te la montagna! Guarda! Così in alto non siamo mai saliti sull'Etna! Sarà bellissimo! Sì! Solo che guarda ci sono così belle giornate che la neve si è sciolta tutta! Ah! Altrimenti qui sarebbe stato pieno pieno di neve! Lo sai? Sì! Amici, questi sono i miei uomini! Li facciamo vedere i nostri amichetti? Sono i pesciolitti! Che belli! Vediamo? Sono i pesciolitti! Oh oh oh! Si girano! Molto molto belli! Lì c'è tanta tanta neve! Dove? La la! Eh amore ma è poco in realtà! Sai quando qui fa freddo tutta questa terra neve è ricoperta di neve! E tra l'altro molto molto alta! Non ci credo! Sì sì! Addirittura qui si scia! Non lo sapevo! Eh sì! Solo che siccome qui in Sicilia quest'anno quest'inverno ha fatto un tempo meraviglioso con sole quasi tutto il giorno 15 16 17 18 gradi di inverno e la neve si è sciolta! Qui siamo all'incirca quasi 2000 metri di altezza e alla fine della funeria saremo a 2500 metri di altezza! Ooooooh! Oh! 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 un tocco fino a te siamo altissimi c'è spugli appassiti amici ci sono c'è spugli lì appassiti chilo ci danno per me un po' di acqua così si prende e così ci danno un po' d'aria da qua così amici noi stiamo arrivando quasi quasi ma cos'è quella casetta lì sopra? forse dentro c'è una campanella che significa forse che siamo così arrivando è probabile adesso vediamo cosa succede appena arriviamo eccoci qui stiamo per entrare pronti a scendere mi raccomando siamo arrivati dai scendiamo e dirigiamoci fuori ecco il tornello e finalmente siamo fuori sì che bello giocare con la neve che bello giocare con la neve che freddo antaglia non mi prenderai ma io mi hai preso no mi hai preso e adesso scappo vediamo se mi raggiungi vado ciao eccola nuovamente qui aiuto antaglia stavolta non mi prenderai ah hai visto non mi hai preso ciao ehi dove vai scappo prendere altre neve va bene oh mamma eccola di nuovo qui con una ballona di neve non mi prendi non mi prendi io scappo dai vieni qui ti aspetto mi hai preso brava ti ho preso pure io hai visto eccomi qui avvicinati dai prendimi prendimi anzi guarda cosa ti do una palla di neve già pronta per essere lanciata non mi prendi non mi prendi io scappo anzi guarda ne prendo una pure io così te la posso lanciare eccola mi hai preso ma ti piace ti sta piacendo la neve si è bellissima guarda che giornata bellissima con tanto tanto sole guarda ti arrivo un'altra pallona di neve ti prendo stavolta guarda ti prendo ti prendo ti strascino sulla neve ciao amici ciao amici ciao 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 che bello è bellissimo qui guardate che panorama mozzafiato ciao amici ci vediamo presto ciao ciao prendete questo ciao 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 guarda c'è un cratere lì e lì sotto ce n'è un altro altri due atterrati atterrati pronti per scendere la tua casa finalmente ancora dobbiamo fare un bel po' di strada cappellino cappellino e pronti per scendere dai salta antaria ecco ancora qualche altra scala e siamo finalmente fuori che splendida giornata davvero incantevole ti dì a Grazie a tutti. Grazie a tutti.